ragazzi non c'è stata partita stasera non c'è stata partita la roma ha dominato contro l'ozonia ma vedendo comunque le qualità delle due squadre non si poteva non provvedere una cosa del genere peccato per quelle due sfide col bordo glint ragazzi peccato perché la roma adesso se il bordo glint non fa passi falsi purtroppo dovrà farsi playoff per passare agli ottavi di finale dell'euro conference league perché se qualora il bordo glint ragazzi non ne perde una e il bordo glint ha da accedere direttamente diciamo agli sconti diretti della conference league e questo è un peccato ragazzi però oggi la roma ha risposto bene in campo ragazzi ha risposto bene con un zagnolo che aveva voglia di dimostrare e oggi ragazzi zagnolo è stato assurdo cosa ha fatto zagnolo ragazzi una roma che ha parlato subito col pio giusto perché neanche tre minuti già due azioni pericolose la prima che zagnolo la palla bichita rianche per il tuo portiere sbaglia per un soffio anche se poi comunque c'era fuorigioco la seconda che se non sbaglia sempre lo stesso zagnolo a invitare l'assist per abraham che abraham lì ci abbatta il pallone ed abraham ragazzi è uno che ti sbaglia dei gol assolutamente facili ma poi ti diventa dei gol assurdi e poi ci arriviamo una roma che spinge tanto della zoria mi ricordo giusto due tiri barracross di giunigno dove lui partì si è dovuto smanacciare in calcio d'angolo e un tiro centrale nel primo tempo poi non mi ricordo nient'altro la roma attacco sfido forte e poi arriva il gol ragazzi arriva il gol col sempre solito zagnolo che porta palla porta palla porta palla porta palla allarga per el sharawi el sharawi vede il taglio di carnesperes al centro bellissimo l'assist di el sharawi ragazzi con il collo esterno per il giocatore spagnolo e lui davanti alla porta non sbaglia ragazzi la roma trova l'uno a zero zagnolo che ha tantissima voglia di segnare ragazzi infatti poi ha avuto due occasioni la prima dove ha tirato e poter gliela parata la seconda scusate la seconda invece praticamente tira col mancino col piatto a giro col mancino e viene muato dal difensore quindi zagnolo ha tanta per dimostrare e infatti poi si è visto ragazzi alla fine vedi tu porta palla porta palla porta palla allarga per zagnolo zagnolo tira fortissimo col destra incrociare ragazzi e non ce l'è ragazzi cioè zagnolo fa fa un bellissimo gol e si sblocca e se lo meritava tutto perché ha fatto una perita stupenda ragazzi stupenda nel secondo tempo ragazzi arriva ancora la roma che attacca e ha voglia di dimostrare nel primo tempo va dentro che veritù sbaglia il rigore ragazzi è il secondo di fila che sbaglia veritù dopo il rigore contro la juventus quindi strano la veritù che è sempre stato uno che comunque il suo rigore freddo invece il portiere gliela para bene nel primo tempo ragazzi si distende bene gliela para meglio che sia stato in confidence league ragazzi perché io veritù c'era una fantacalcio ma l'avessi sbagliato in campionato ma non nato sbaglia il rigore veritù nel secondo rigore che c'era ragazzi perché comunque il giocatore dello zoria aggancia carles peres secondo tempo ragazzi bellissima la finta di zagnolo che si fa passare la palla sotto le gambe il velo che si fa su se stesso si gira e recupera quel pallone mettendo una palla al centro per Mkhitaryan ragazzi completamente per Mkhitaryan per Abram dove praticamente il portiere non c'è Abram è solamente buttarla dentro e trova il gol il 3 a 0 lo stesso Abram che poi ha avuto due azioni importanti una con la palla al centro del Sharawi dove lì anche lì impatta male i palloni e quelli sono i gol facili che io intendo ci sono state due azioni nel primo e secondo tempo dove Abram impatta male i palloni dove lì un attaccante deve segnare anche nel secondo tempo sull'assist del Sharawi lì Abram sbaglia ha avuto anche un tiro a giro dove la palla c'era di poco e poi ragazzi si inventa un gol assurdo perché poi Abram fa il suo secondo gol la sua doppietta questa sera un gol assurdo perché c'è stato un tiro di Kardesper se non sbaglio rimpallato la palla va verso l'inglese giocatore inglese Abram spalla la porta rovesciata perfetta trova l'angolino gol quello di Abram è un gol bellissimo ragazzi ed è difficilissimo da fare per quello io dico cavolo ma è possibile che questo giocatore qua sbagli i gol facili e poi quelli difficili trasforma è proprio vero ma è così e quindi ragazzi cioè bellissimo gol di Abram però devi migliorare un po' sottoporta quello poco ma sicuramente ma questa doppietta può dargli fiducia se sarà questo ragazzo e bello il gol comunque veramente veramente bello e poi la Roma butta dentro anche Shomuro dopo ragazzi che in spaccata anche lui ha avuto un'occasione importante per portare Lozoya alla parata Lozoya che nel secondo tempo fa un tiro da fuori aria se non sbaglio dove la palla esce alato non di tanto ma neanche di molto quindi Lozoya è questo ragazzi ha fatto questo la Roma ha vinto 4 a 0 poteva vincere molto molto di più quindi risultato che ci sta risultato meritato e Mourinho ha fatto una buona ha messo la Roma bene in campo ragazzi è peccato per quei due contro il Modo Glint ragazzi peccato perché questo giocatore va a parlare di una roba prima invece ancora purtroppo è seconda perché il Modo Glint ragazzi le vince tutte e niente ragazzi quindi però è una partita bellissima perché abbiamo visto lo strappotele fisico di Zagnolo ragazzi che se sta bene è devastante abbiamo visto comunque Abramo che ti inventa un gol della Madonna però stasera ragazzi non c'è stata partita riserva della Roma o no comunque il dibagliare le squadre è veramente troppo troppo alto e si è viste in campo ragazzi niente passate sulla link in descrizione di Amaya un sito completamente gratuito ragazzi di articoli sportivi dove praticamente vendono roba di ottima qualità a poco prezzo se usate il mio codice scontuale tutto maiuscolo avete il 15 peggio di sconto e se ne farete più di 7 un tavolo di spesa la consegna sarà gratuita lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando commentate sui commenti fatemi sapere cosa ne pensate appunto di Roma Zoria e ragazzi anche se vi facciamo ricordo iscrivetevi al canale che è importante se non consumiamo più tanto ragazzi fatemi saperti iscriviti se siete iscritti quando vedete il video con i buoni stimi per iscrivere anche loro e arriveremo moltifiche così non perderemo i prossimi video ragazzi qui da me che è tutto bella ciao